Una gara impeccabile, così Trento reagisce alla squadra campione d'Italia in carica. Una vittoria che vale il match point nella prossima sfida di venerdì, prossimo a Civitanova. La squadra di Blencini costretta ad abbassare lo sguardo, con Zazio fuori quasi subito per via della spalla e il tecnico costretto ad una rivoluzione. Trento così ha spinto, vinto in 3-7, con una squadra compatta di giovani campioni del mondo e trascinatori esperti, come il Bulgaro, ancora MVP, 4 ace, il capitano, KK, Mattei Kaziski. Dove trovi le forze, Mattei, per rendere da grande campione? Beh, sicuramente ricuperare le forze dopo gara 2 era il primo obiettivo. Si è visto una squadra molto più viva, molto più carica. Qua è stata più veloce, ma comunque con tanta tanta energia sprecata. Che gara ti aspetti? Perché avete un match point, ma andate a Civitanova dove, insomma, l'ultima volta è arrivato un tie break e me l'avete perso. Io, dopo il 3-2 là, sono molto fiducioso, perché nonostante che eravamo sotto siamo riusciti a risalire. Pur non giocando perfetto, mi aspetto comunque una gara lo stesso difficile come è stata quella di gara 2, però andiamo credendoci di dare di tutto per farcela là.